Gennaro Parbenda, Pozzuolo è meglio conosciuto come il messicano, a cui è venuta l'idea già nella campagna elettorale delle amministrative di qualche anno fa di creare un percorso che possa congiungere praticamente la zona di Via Napoli con il centro città. Siccome già da tempo si sta parlando Pozzuoli deve essere riconvertita a un altro ruolo, quello turistico, penso che organizzare una passerella che avviene da Via Napoli qui al costone del rione Terra, organizzando una passeggiata su questa area, si potrebbe portare avanti un grosso discorso di rilancio di questo territorio. E quindi nella passeggiata si può organizzare tante e tante altre cose, organizzare un arredo urbano, dall'arredo urbano si può organizzare nel periodo estivo un movimento di lavoro per i giovani disoccupati, quindi organizzare i trimestrali per quanto riguarda l'organizzazione di lavoro. E quindi l'amministrazione avrebbe anche un beneficio di organizzare il lavoro per i giovani. Siamo con noi anche il professore Giamminello, ormai lo conoscono tutti quanti. Tecnicamente come dovrebbe essere realizzato questo percorso? Innanzitutto mettiamo in evidenza una cosa, è già funzionante un parcheggio, per adesso abusivo, ma c'è già un progetto dell'amministrazione di sistemazione di tutta l'area a Valle di San Vincenzo e fino all'ex auspizio dei frati Cappuccini. Un vasto parcheggio che servirà certamente al centro storico, quindi questo collegamento pedonale, esclusivamente pedonale, largo massimo un paio di metri, permetterebbe, come posso dire, un rapido collegamento con la Darsena e tutto il burgo. Come dovrebbe essere realizzato? Per 200 metri è già realizzato. Ecco, stiamo su questo muro di contenimento, con questa base e la scogliera. Già questo è un percorso, soltanto il tratto sotto il costone d'Ufaceo, che andrebbe chiaramente risanato, che presenta molte gallerie risalenti al periodo romano, ma probabilmente qualcuna anche di origine greca, sono appena 100 metri che si possono superare con una passerella in legno. Sul mare c'è il legno trattato. Grazie a tutti.